L'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci sono stati uccisi nel corso di un conflitto a fuoco dal gruppo armato che li voleva sequestrare il 22 febbraio scorso in Congo e quanto hanno raccontato i testimoni oculare ai carabinieri del ROS nella loro missione a Kinshasa durata 5 giorni su richiesta della Procura di Roma. A fornire ulteriori dettagli sull'agguato è stato Rocco Leone, il vice direttore del programma alimentare PAM scampato all'assalto. Secondo il funzionario Vittorio Iacovacci ha tentato di mettere in salvo il diplomatico italiano portandolo lontano dalla linea di fuoco tra gli assalitori e i rangers del parco Virunga intervenuti in loro soccorso, ma a quel punto il commando avrebbe sparato nella direzione dei nostri connazionali. Nel corso delle indagini è emersa anche l'ipotesi secondo la quale l'ambasciatore sarebbe stato l'obiettivo dei signori della guerra del vicino Rwanda che avrebbero teso una trappola al convoglio nel tratto Goma-Rucciuri. Il nostro diplomatico avrebbe pagato con la vita, sostengono i missionari componiani di Kinshasa, il suo impegno umanitario nel conoscere la verità sui massacri di civili che insanguinano da anni la zona. Un'ipotesi anche questa al vaglio dei nostri magistrati.